Guardandomi intorno e vedendo tanti impettitissimi personaggi nel mondo culturale, che sono impettitissimi semplicemente per aver fatto tre o quattro cose, mi rendo conto come io sia stato da sempre molto sciocco, perché non sono affatto impettito, ma d'ora in poi starò più impettito, amici miei, sarò impettito perché un giorno quando ho pubblicato il mio primo romanzo, un thriller, la stampa di Torino mi ha definito il Ken Follett italiano, sarò impettito perché ho scoperto tutta una serie di saggi inediti di Guido Piovene che l'Arnoldo Mondadori Editore ha pubblicato in due volumi da me curati, sarò impettito perché ho scoperto un carteggio di Dino Buzzati con un suo carissimo amico Arturo Brambilla che è stato poi pubblicato da De Agostini, è stato pubblicato in Francia, è stato curato da me con un'ampia introduzione, sì, d'ora in poi sarò impettito perché a un certo punto ho deciso di costituire una mia casa editrice che è stata la prima che ha fatto gli e-book in Italia.